Don Cristiano Arduini, responsabile ufficio famiglia della Diocesi di Padova. Il Vescovo Mattiazzo saluta la città, un suo ricordo personale di questo mandato speciale. Ma la cosa più bella è che il Vescovo sarà ricordato sicuramente per il suo zelo, il suo entusiasmo, il suo slancio missionario. Tanto è vero che stamattina ha comunicato proprio ai suoi sacerdoti che intende proprio dedicarsi ancora una volta alla missione in Africa e questa volta raggiungerà una piccola comunità cristiana in Etiopia. Poi se debbo fare riferimento a un ricordo personale, quando ho avuto una specie un po' di incidente, il Vescovo è venuto a trovarmi di persona a casa dei miei genitori e questo resterà sempre nel mio cuore come un'attenzione, una prossimità e un amore grande da parte sua nei miei confronti. Spesso è stato etichettato come molto severo. È così? Era una persona effettivamente così severa? Stamattina durante l'eucaristia di congedo ha riconosciuto la sua corazza, ecco per certi versi la sua ruvidezza, però ha anche assicurato che dietro c'è un cuore grande che ogni giorno pregava per i suoi sacerdoti e continuerà a farlo anche in missione. Questa mi sembra una cosa molto bella, riconoscere la propria umanità nei suoi limiti, ma anche nei suoi pregi e nel suo amore per i suoi preti. Le chiedo, quindi è una nuova fatica e non è più un diciottenne? Certo, però come egli ama ripetere spesso, i suoi genitori hanno dato una buona salute, ecco, come regalo, come dono, per cui non si direbbe che ha 75 anni ma almeno 10-20 in meno e questo è un grande regalo che gli permetterà ancora di essere utile per tante e tante persone e tanti cristiani ancora.